Roberto Colacioppo, un affermato fotografo a Lanciano e non solo, infatti sono moltissimi premi che nell'ultimo anno ha ricevuto. Roberto parlacene un po' tu. Parlare di premi mi rimane difficile, mi è più facile scattare fotografie che parlare di quello che in realtà poi mi dà di riscontro nella vita. È vero pure che comunque ho avuto la fortuna di essere premiato per alcuni lavori fatti. In questo fine 2016, inizio 2017, sono veramente felice perché dopo aver conseguito il Masterquip che è un certificato per la fotografia europea molto ambito, molto particolare, sono riuscito ad ottenerlo in seguito a un progetto fotografico. Dopodiché ho conseguito anche il certificato Masterquip che è quello italiano del FIOF e quindi ho fatto l'unblende di tutti e due questi certificati. Dopo ho partecipato anche al contest europeo della FEP per quanto riguarda la fotografia professionale e nella categoria reportage ho avuto la fortuna prima di rientrare nei primi dieci fotografi europei per la categoria e qualche giorno fa, il 2 aprile a Catania, sono stato insignito della Camera Silver per quanto riguarda quindi l'Awards in argento, per quanto riguarda la fotografia di reportage, quindi sono più che soddisfatto, fiero. Sono dei certificati molto importanti, però dico sempre che per me l'importanza è quello che è la mia quotidianità, la mia vita fotografica, il mio scattare, le mie fotografie. I certificati ti danno quel confronto a livello europeo, internazionale, di crescita dove ti fai delle domande e ti dai anche delle risposte. Poi quello che conta nella vita è fotografare, per me è raccontare storie. Quindi più soddisfazione dalla vita di tutti i giorni che da tutti questi premi? Sì, trago tanta soddisfazione nella quotidianità perché vivo e mi confronto con tanti amici, con tanti appassionati e mi confronto con la quotidianità della vita che per me è importante poi riportarlo in fotografia per lasciare comunque possibilmente per quello che possa essere il mio mestiere una traccia fotografica. Nella tua quotidianità c'è anche l'associazione Social Photography Street. Quest'anno è il quinto appuntamento con Immagina, possiamo dare qualche anticipazione? Sì, questo è il quinto anno consecutivo che noi organizziamo Immagina, organizziamo Immagina insieme a Fioff Revolution. Anche quest'anno saranno giorni intensi di fotografia molto particolari. Per il primo anno saranno coinvolte le scuole sia primarie che secondarie e sarà veramente un'esperienza bellissima sia per i bambini piccoli che faranno un laboratorio sensoriale alla quale il maestro sarà Domenico Tattoli, vi dico l'anteprima, e ci sarà un seminario rivolto alle scuole superiori per quanto riguarda la fotografia dove ci saranno due docenti universitari, uno della professoressa dell'Aquila e uno della Sapienza di Roma. Nell'arco della settimana ci saranno workshop e incontri con gli autori, di cui sarà presente personaggi importantissimi, manca ancora qualche nome da confermare, dopo di che diremo il programma in tutto. Il periodo va dal 10 di maggio al 14 maggio, dal mercoledì alla domenica, saranno tutti quasi serali. Quindi l'appuntamento per tutti gli appassionati di fotografia è dal 10 al 14 maggio al Polo Museale Santo Spirito. Diancia.